ora vediamo come si para lo scacco quindi vediamo cosa fare ammettiamo che sei sotto scacco devi scappare o devi parare l'attacco per esempio mangiando l'attaccante cosa più semplice quindi abbiamo praticamente regina contro re regina da scacco io mi vado a spostare la regina mi da scacco e io posso spostarmi in queste posizioni anche se in realtà in molte di meno però praticamente il numero di posizioni che io ovviamente la regina copre queste posizioni qua quindi l'unica posizione che è rimasta dove io posso fuggire è questa stesso discorso noi abbiamo le due torri che ci ci attaccano ora dobbiamo trovare un sistema per salvare il re come lo faccio a salvare il re? ci metto un pezzo in mezzo per esempio in questo caso la torre attenzione perché questo non vale per i cavalli su un attacco di cavalli il cavallo salta come abbiamo detto all'inizio quindi non si può parare semplicemente saltandolo buonasera Andrea buonasera buonasera vediamo un'altra un'altra variante qui praticamente siamo praticamente sotto scacco dell'alfiere possiamo metterci eventualmente un cavallo davanti ma non serve a molto perché l'alfiere mangerebbe questo cavallo potremmo ad esempio il re diciamo non può muoversi al lato perché c'è questo cavallo allora diciamo la cosa più semplice da fare è mangiare l'attaccante quindi vado e mi mangio chi mi attacca e questa è la soluzione qui abbiamo lo stesso discorso abbiamo un attaccante che abbiamo detto che è un cavallo in mezzo non ci posso mettere niente ma qua in questo caso ci sono già dei pezzi comunque non ci posso mettere niente in mezzo non posso mangiare con il pedone perché spostando il pedone c'è la regina che vede il re quindi la soluzione migliore è mangiare il cavallo che attacca l'attaccante quindi stesso discorso qui praticamente questo cavallo ci dà praticamente queste posizioni che copre la regina ci copre praticamente queste posizioni quindi praticamente l'unica soluzione è non posso mangiare il cavallo perché in questo caso in questo caso c'è c'è un pedone cioè il pedone che si sposta lascia passare lascia vedere il re e quindi poi non posso farlo quindi la soluzione migliore è andare in diagonale fuggire in diagonale bisogna costruirsi quando diciamo si deve parare lo scacco bisogna costruirsi le vie di uscita del re alla fine sono nove posizioni cioè nove punti alla fine questo è non è difficilissimo capisco che all'inizio sembra complicatissimo per me è semplice perché lo faccio da tanti anni però capisco che diciamo chi è alle prime armi può trovare difficoltà per esempio ora sto facendo una ricostruzione ovviamente la regina dove va abbiamo detto che la regina va su questi pezzi qua mentre invece l'alfiere chiaramente quindi cosa va succede che il re non può andare da nessuna parte quindi io che devo fare devo andare a parare il mio attaccante quindi in questo caso spostare il cavallo dalla tagliettoria dell'alfiere la prima cosa da fare è vedere il re dove può andare poi va va capito se si può mettere qualcosa in mezzo se non si può mettere qualcosa in mezzo bisogna vedere se si può ammazzare l'attaccante queste sono diciamo in generale le tre le tre opzioni diciamo poi a seconda di casi va valutato il la migliore ora vediamo il matto in una mossa vediamo lo scacco matto lo scacco matto abbiamo detto che è quello dove il re non ha più nessuna parte dove andare quindi poi verrà mangiato in realtà il mangiare del re non avviene se non appunto simbolicamente in realtà basta dire scacco matto ed la partita finisce quindi vincerai quando il tuo avversario non potrà difendersi dallo scacco quindi per esempio in questo caso io ho un pezzo qui che il mio alfiere che protegge il pedone quindi spostando la regina in questa posizione il re non può mangiare la regina perché verrebbe a sua volta mangiata dall'alfiere non può sfuggire perché da questo lato ha la sua regina che lo struisce e quindi è scacco matto sostanzialmente scacco matto qui stesso discorso il re praticamente è già bloccato di suo fare questa mossa col pedone sarebbe inutile perché in pratica poi il re lo mangerebbe e uscirebbe dalla dalla sua costruzione quindi la cosa più semplice è spostare il cavallo in questa posizione il cavallo abbiamo detto salta quindi spostando il cavallo in questa posizione si ha la possibilità di attaccare il re e non dargli scampo e quindi passiamo a un'altra posizione qui abbiamo il re avversario che ha questo già coperto e c'ha la torre allora questa è una posizione abbastanza classica io c'ho il re che praticamente può in questo momento andare solo su e giù o tra l'altro la regina che sta per essere mangiata quindi io potrei anche mettere la torre qui e fare scacco ma il re poi se ne scapperebbe al lato la cosa più semplice visto che già la penultima colonna è occupata è occupare l'ultima colonna con la regina in modo che la regina chiude questa qua e la torre chiude questa qua e il re non può andare da nessuna parte né si possono mettere dei pezzi in mezzo quindi facciamo questa posizione e abbiamo conclusione abbiamo ora abbiamo ora un'altra posizione in cui potremmo sfruttare potremmo sfruttare per esempio questa posizione ma il re fuggirebbe da questa parte c'è da dire che attualmente il re a seguito della posizione della regina può andare esclusivamente può andare esclusivamente in questa posizione quindi che cosa andiamo a escogitare possiamo mettere allora se io faccio scacco di così il re va qui e non mi serve niente ma se io faccio scacco di così praticamente occupo sia questa posizione col cavallo e sia quest'altra e quindi il re non ha più scampo quindi metto il cavallo qui e il re non ha più scampo ok altra posizione qui abbiamo praticamente la possibilità di fare uno scacco di scoperta ad esempio abbiamo questo cavallo che mi copre queste due posizioni la torre che mi copre tutta la tutta la verticale quindi che succede che in pratica mangiando semplicemente col mio pedone quest'altro pedone ho la possibilità di scoprire la visuale del re fargli scacco lui non può andare da nessuna parte non riesce a metterci pezzi in mezzo perché non c'è niente che ci può andare in mezzo non mi può mangiare l'attaccante per cui è scacco matto quindi vediamo eccolo ok ok ora vediamo un'altra posizione qui praticamente abbiamo questo cavallo che va a coprire queste due posizioni la torre che mi copre quest'altra io sostanzialmente ho il re che se ne può fuggire facilmente da qua quindi cosa va a succedere posso mangiare con il l'alfiere qua ma c'avrei la torre ma attenzione la torre da qui non si può spostare perché se si sposta la torre c'è quest'altra torre che sostanzialmente mangerebbe il re quindi io posso mangiare quest'altra affiere senza avere ostacoli senza che nessuno si possa si possa intromettere